Ma Milapina Tapai, guardarsi reciprocamente negli occhi sperando che l'altro faccia qualcosa che entrambi desiderano, ma che nessuno vuole fare per primo. Con questa parola l'antica popolazione autoctona Yamana esprimeva un concetto complicato, silenzioso, magico. Tutto racchiuso in una parola, un momento, tradotto così nella lontana terra del fuoco. Potrebbe essere stata questa la sensazione provata dal giovane Samu, quando a 12 anni ha visitato Milano vestito di rosso nero, bandiera del Milano in piazza Duomo e tour negli spogliatoi di San Siro. La prima volta non si può scordare. Lo sguardo incantato, la testa che gira seguendo ogni angolo di una stanza che sarebbe diventata la tua casa, uno stadio che ti vedeva spettatore, spettatori che ti vedono protagonista. Il flash di quel momento contiene passato, presente e futuro, come un'illuminazione, la visualizzazione di un sogno che con il tempo e il lavoro si è trasformato in realtà. Mamilapina Tapai Nato nel 1995, cresce nel settore giovanile del Malaga, squadra grazie alla quale conosce anche il professionismo. Nella stagione 2015-2016 veste il giallo del Villareal, dove rimane per tre stagioni, collezionando 127 gettoni, 11 reti e 14 passaggi vincenti. Il passaggio al Milan è vissuto come un sogno, un ritorno a quel giorno di 13 anni fa. Si presenta al Milan un esterno che può vantare il maggior numero di dribbling tentati nell'ultima liga, un biglietto da visita che lascia intendere le qualità dello spagnolo. Alla prima stagione in Italia le sue doti tecniche sono a disposizione dei rossoneri in 40 occasioni. Quattro gol e altrettanti assist lasciano intendere la bontà dell'acquisto. La prima gioia arriva a Sassuolo, grazie ad un diagonale mancino. La posizione da falso 9 aumenta l'imprevedibilità del fideo, che può festeggiare con i suoi tifosi. L'ala rossonera cresce con il passare del tempo e con la cessione di Suso trova sempre più spazio, tanto da essere giocatore ad aver creato il maggior numero di azioni da gol nei 5 principali campionati europei dall'inizio del nuovo anno fino allo stop forzato, causa Covid. Contro il Verona, in casa. È tutto un tratto, ma mi la pina tapai. Intervento da Rosso, Dian, Rabat e Samuaterra. Ecco che torna alla luce della lingua yamana in un attimo. È giro del web. Il finale di stagione è in continua scesa per Samu, che aggiorna così tutti i suoi numeri. Chiudiamo gli occhi e guardiamoci. Non c'è bisogno di dire nulla, ma mi la pina tapai. Non c'è bisogno di dire nulla, ma mi la pina tapai.